Oggi è stato inaugurato un presidio di legalità qui a Opito Mamertina, grazie all'amministrazione Giannetta. Sì, una grande soddisfazione perché è una scommessa che è stata vinta, perché quando cinque anni fa ci siamo posti davanti l'obiettivo di poter far crescere e migliorare ovviamente il giudice di pace era una sfida difficile perché ci ritrovevamo ad avere un ufficio del giudice di pace con poche decine di iscrizioni al ruolo. Nell'arco di questi cinque anni non solo siamo riusciti a mantenerlo in vita ma le iscrizioni al ruolo oggi sono diventate centinaia e di fronte a una moria generalizzata di chiusura di uffici di giudice di pace e in altri comuni anche importanti e grossi come Tauria Nova, Cinque Frondi, Melecucco, Sinopoli, Laureana, siamo riusciti veramente a mantenerlo con grande forza e con grande dignità. La doppia sfida che ci siamo posti davanti è stata non solo quella di mantenere il giudice di pace ma addirittura di dare una sede dignitosa a un presidio di legalità per noi importante. Infatti oggi stiamo inaugurando questa nuova istituzione, questo nuovo presidio e soprattutto stiamo intitolando anche la sala al vice pretore e pastore, un nostro concittadino che nell'arco degli anni ha saputo veramente con grande professionalità e impegno portare avanti l'allora ex pretore e oggi uffici di giudice di pace.